La divisione calcio a 5 ieri pomeriggio ha diramato i gironi dei prossimi campionati di Futsal. Occhio vigile nel torneo di A2 e in quello di Serie B, precisamente il girone G, con le molisane protagoniste. Per il CLN Cusmolise, al secondo anno nel secondo campionato nazionale, confermato il raggruppamento contrassegnato dalla lettera C. Un girone che presenta diverse novità rispetto al recente passato, in particolare con l'inserimento delle formazioni toscane, Prato e Pistoia mai affrontate prima. Ci saranno poi quattro quintetti pugliesi, Capurso, Giovinazzo, Manfredonia e Rutigliano, poi una selezione Umbra, la Visgubbio, una Abruzzese, Tombesi, Ortona e tre marchigiane, Futsal, Cobà, Tenax, Castelfidardo e Bulldog di Lucrezia. Dunque non ci saranno le formazioni siciliane come nella scorsa stagione. Il team di Sanginario ritroverà due formazioni già affrontate lo scorso anno, la Virtus Rutigliano e il Manfredonia. Entrambe sono state protagoniste, così come i molisani, nel girone C e sicuramente cercheranno di confermarsi anche nella prossima stagione. La vera novità, come detto, è rappresentata dalle formazioni toscane mai affrontate nel corso delle diverse stagioni, a livello nazionale, ovviamente stagioni disputate dal CUS. Un raggruppamento equilibrato con qualche squadra organizzata come Manfredonia e Ortona, di sicuro ci sarà da lottare su ogni campo, come è successo anche l'or scorso anno. Queste le parole di Mister Sanginario subito dopo l'uscita del raggruppamento. Non solo a due, la divisione ha diramato anche i gironi di Serie B. Per la Chaminade Campobasso il girone designato è quello G, come nella scorsa stagione. Un raggruppamento da giocare quasi interamente in Puglia. Delle 14 società presenti ben nove sono pugliesi, precisamente Aquile Molfetta, Barletta Calcio A5, Canosa, Diaz Bisceglie, Futsal Bisceglie, Vitonto, Itria Football Club di Cisternino in provincia di Brindisi, poi San Michele, società che lo scorso anno militava in A2 nel girone del Cusmolise e il Torre Maggiore. La novità riguarda la presenza di due società calabresi, precisamente il Casali del Manco Futsal e il Mirto Calcio A5, entrambe della provincia di Cosenza. Infine il solito Real Dem di Montesilvano Pescara, una delle società sempre presenti insieme alle molisane nelle scorse stagioni. Chaminade Campobasso e Venafro, le nostre rappresentanti, a chiudere il girone. Detto questo, la società del padrone scarnata è concentrata sull'allestimento della rosa della prossima stagione. La società, dopo il buon lavoro svolto, ha deciso di confermare il mister Gianluigi Tavone, con lui anche il preparatore atletico Stefano Moffa e il preparatore dei portieri Gaetano Bova. Alessandro Cavaliere, promosso in prima squadra come vice di Tavone, il tecnico di Bonifro potrà contare anche sul fidato collaboratore Agostino Di Salvio. New entry il team manager Francesco Jalenti e il direttore sportivo Antonello Pascale. Il medico della squadra è sempre il dottor Salvatore Pascalucci. Per prima cosa intendo ringraziare la società che mi ha dato l'opportunità di sedere per il secondo anno consecutivo su una panchina importante come quella della Chaminade. Sono felicissimo di aver sposato questo nuovo progetto. Così il tecnico dei rosso-blu Tavone che si è soffermato poi sul girone. Raggruppamento duro ed impegnativo, ma nello stesso tempo avvincente con le squadre calabresi. Ci sarà da divertirsi. Sulla squadra la società sta pensando ad una Chaminade giovane e molisana. Diversi ragazzi sono sul procinto di legarsi al team e proseguire nell'avventura portata avanti da diversi anni. Possibile anche l'arrivo di Andrea Cioccia. Per lui potrebbe trattarsi di un gradito ritorno.